23 ottobre 2002. Teatro Dubrovka di Mosca, secondo atto dello spettacolo teatrale Nord-Ost. Un commando di 40 ribelli ceceni fa irruzione nel teatro e prende in ostaggio 850 persone. La loro richiesta è il completo ritiro delle truppe russe dalla Cecenia. Tre giorni dopo, le forze speciali dei servizi segreti russi pompano gas anestetizzante dall'impianto di condizionamento ed entrano nel teatro. Il bilancio del sequestro conterà almeno 129 morti e oltre 700 feriti.